Adesso do la parola ai colleghi e alle colleghe che si sono iscritti a partire dall'onorevole Cimbro. Grazie Presidente, ringrazio anche io il Ministro De Martino per questa esaustiva presentazione rispetto al tema dei diritti umani. Io ho ripreso così casualmente su questo libro degli appunti la conferenza sui diritti umani che si è svolta il 22 luglio dell'anno scorso in Farnesina, proprio perché uno dei temi fondamentali, credo e lo ritiene anche la Presidente che mi ha preceduto con il suo intervento, sia quello appunto dell'istituzione dell'autorità indipendente per i diritti umani. Già allora era stata avviata una discussione ampia che aveva visto il coinvolgimento di massimi esperti, nonché dei due Presidenti del Comitato di Diritti Umani Camera e Senato e credo che quasi a distanza di un anno, perché mancano pochi mesi a luglio, insomma bisognerebbe fare un po' il punto della situazione, perché già da allora erano emersi gli aspetti critici, le potenzialità, era stato previsto anche un percorso da avviarsi tra Camera e Senato, per cui a me risulta che ci sia la proposta di legge a prima firma Manconi e volevo sapere da lei a che punto siamo rispetto alla discussione in Senato, esiste anche la proposta di legge Nicoletti e Marazziti qui alla Camera, quindi da questo punto di vista il Parlamento ha sicuramente dato dei segnali importanti, proprio in quel consenso si era deciso di mettere insieme tutte le proposte di legge, quindi arrivare a un unico testo e magari coinvolgere il Governo per far partire un'iniziativa anche di tipo governativo. La stessa Bonino aveva sottolineato come l'indipendenza e la sostenibilità fossero i due punti cruciali su cui avrebbe dovuto poi concentrarsi l'attenzione della discussione parlamentare e anche del Governo, per cui sulla sostenibilità si diceva che l'elemento dei finanziamenti è un elemento fondamentale e proprio perché a Bonino con questa provocazione diceva non si deve parlare di diritti umani ma di diritti civili, spero che i finanziamenti appunto non arrivino semplicemente dal maeci, cioè bisogna davvero predisporre un percorso anche per garantire la sostenibilità che tenga conto dell'ampiezza anche del tema che noi andiamo ad affrontare. Quindi volevo sapere appunto da lei qual è lo stato della situazione e come possiamo davvero con un contributo effettivo lavorare insieme per il raggiungimento di questo obiettivo perché davvero se riuscissimo a chiuderlo entro la fine di questa legislatura sarebbe un obiettivo fondamentale. Due parole sul tema dell'acqua. Io non so se lei per l'organizzazione di questo convegno ha avuto contatti con Rosario Lembo però mi permetto di dire anche che conosco bene che proprio ieri è stata avviata la discussione in Commissione Ambiente sulla legge 2.2.1.2 che di fatto toglie con emendamenti purtroppo presentati anche dal Partito Democratico, ahimè, e dal Presidente della Commissione toglie di fatto l'acqua nell'alveo dei diritti umani. Io personalmente sono assolutamente contraria a questa mossa politica, devo capire qual è la razza che ha spinto a presentare questi emendamenti, però davvero bisogna intervenire perché se quella proposta di legge arriva così come pare dovrà essere emendata, noi non centriamo assolutamente l'obiettivo che è appunto quello di dichiarare l'acqua un bene comune e inserirlo nell'alveo appunto di un diritto dell'umanità. Quindi da parte vostra volevo capire qual è il vostro punto di vista e anche qui come possiamo intervenire perché non si intraprenda questa strada che credo appunto si discosti moltissimo dal motivo iniziale per cui è nata questa proposta di legge. Grazie. Il collega Scagliusi. Grazie Presidente. Ringrazio anche io il Presidente De Martino per la relazione accurata che ha fatto sul tema dei diritti umani. Anche io mi volevo focalizzare sulla proposta di autorità indipendente. Allora io ero Vice Presidente di questo comitato fino a qualche mese fa ed era una priorità da inizio legislatura perché l'Italia ormai è in ritardo da più di vent'anni però sembra non essere cambiato molto. Lei parlava, Presidente Locatelli, proprio di volontà politica. A questo punto non so se c'è veramente una volontà politica di portare avanti questa autorità e penso che sarebbe utile dal punto di vista del comitato interministeriale magari fornire delle valutazioni oggettive sulle proposte di legge presentate. Ricordo che oltre a quelle di Manconi e Marazziti ci sono anche le proposte di legge Scagliusi, quella Camera e Morra al Senato. Sarebbe utile, penso, alla discussione avere una valutazione in base ai principi di Parigi anche perché alcune delle proposte prevedono una figura monocratica, altre hanno invece più componenti, altre sono meno indipendenti, altre più indipendenti e in rapporto alla valutazione dei costi, per quello che ho potuto vedere, forse non in modo esostivo, sono quasi allo stesso costo, usano le stesse risorse economiche però abbiamo proposte con più componenti, altre. Insomma, speriamo che si riesca a fare entro questa legislatura, l'istituzione di questa Commissione è che sia di qualità maggiore, insomma, in rapporto alle risorse che verranno utilizzate. Poi supporto anch'io l'alert lanciato dalla collega precedente sull'acqua, ricordiamo insomma che il tema dell'acqua è un tema che è stato sottoposto anche al referendum, quello dell'acqua come bene comune, un referendum che insomma ha visto la popolazione coinvolta e che quindi deve essere rispettato anche in tutte le sedi istituzionali. Grazie. Grazie collega Cimbro. Tidei forse. Tidei, scusami, guardavo te. No, allora, intanto ci tengo anch'io ad associarmi ai ringraziamenti al Ministro De Martino anche proprio per l'esastività della sua relazione, abbiamo visto che comunque i temi sono tanti, chiaramente come tutti i colleghi mi auguro che si arrivi al più piesto all'approvazione appunto di questa Commissione indipendente per la tutela dei diritti umani, credo che qui probabilmente dovremmo raccordarci forse un po' di più col Senato perché comunque di fatto, il fatto che comunque non vada avanti o comunque non so quale sia il problema, però comunque sicuramente è un bullnus che assolutamente dobbiamo superare. Sono rimasta particolarmente colpita dal lavoro anche che si fa con le imprese, anche io come la Presidente Locatelli, perché credo che sia un approccio nuovo, però assolutamente positivo. Noi tutti sappiamo, l'abbiamo visto negli anni passati, che cosa, voglio dire, ha rappresentato per esempio il lavoro degli immigrati nell'edilizia, quante violazioni ci sono per esempio state lì per non parlare del lavoro agricolo che ancora, se leggiamo i dati sul caporalato, insomma sono dati che ci fanno comunque rabbrividire. In questo credo onestamente che anche i sindacati stiano comunque svolgendo un ruolo positivo perché basta vedere insomma anche le rappresentanze locali, ci sono sportelli per gli immigrati sul lavoro degli immigrati, e quindi credo che comunque anche in questo un po' di consapevolezza sia maturata anche da quella parte. Io credo che questo sia assolutamente un tema positivo. Chiaramente non entro su tutte le altre questioni, credo però ecco che forse dovremmo raccordarci poi la Presidente Locatelli, insomma questo è bravissimo perché per esempio voglio ricordare che per esempio sulla ratifica per la protezione delle persone dalla sparizione forzata, il Parlamento, questa Camera in particolare, ha lavorato molto, ci avevamo lavorato sia con proposte di legge anche parlamentari e poi con numerose sollecitazioni al Governo che poi chiaramente ha portato il disegno di legge di ratifica in aula. Quindi io voglio dire così come la collega Cimbro do la mia disponibilità non solo su questo tema massimo, ma su queste cose. Una domanda mi piacerebbe farla anche se diciamo esula un po'. Allora abbiamo visto che un po' di giorni fa la Sceidu ha condannato l'Italia in relazione al caso del rapimento e della detenzione illegale di Abu Omar. Allora, al di là del fatto che comunque ripropone con forza il tema della tortura e dell'approvazione della legge sulla tortura, mi piacerebbe avere una sua idea anche un po' su quella che è una battaglia radicale da tanto tempo che è quello del diritto alla verità e alla conoscenza. Cioè il fatto che comunque i cittadini debbano conoscere in che modo e perché gli Stati prendano a tutti i livelli decisioni che comunque sono determinanti, incidono fortemente poi sui diritti umani e sulle libertà civili. Mi fermo qui perché i temi sarebbero tanti, però noi fra poco abbiamo... Collega Chauqui. Grazie. Io volevo solo tre punti. Il primo è rispetto ovviamente al tema della Commissione, quindi mi... Io credo la volontà ci sia. Il problema è ovviamente anche una questione di priorità anche nei lavori parlamentari perché ovviamente è una questione che spetta innanzitutto a noi, quindi non per giustificare nessuno, ma noi dovremmo anche porci a livello di lavori, di commissione e vedere anche quei colleghi del Senato, cioè provare in qualche modo a unificare anche gli sforzi dei colleghi del Senato per arrivare a una soluzione e scansando anche gli equivoci rispetto a tutti gli alibi che si usano spesse volte per bloccare questo lavoro, è il solito carrozzone, serviranno tanti soldi, eccetera, eccetera. Quindi mi chiedevo se proprio per eliminare questi alibi e accelerare più il lavoro ci fosse una proposta light, una proposta diciamo più snella e che può essere anche non perfetta ma può sicuramente accelerare la nostra discussione. Su questo io ho percepito, però ve lo chiedo rispetto al mondo delle ONG, l'idea di conciliare tra appunto il board ristretto che si proponeva, che lei proponeva e il tema di ascolto, di coinvolgimento del mondo dell'associazionismo, qual è l'equilibrio che voi vi siete proposti anche nelle vostre riflessioni e il secondo punto è il tema del rapporto con l'UNAR, cioè nel senso i due soggetti sono complementari, uno sostituirebbe l'altro? Questo è un altro elemento su cui volevo chiedere la vostra opinione in generale valutare anche appunto in altri paesi cosa si è fatto, se ci sono delle ipotesi simili o se si sono trovate delle soluzioni anche rispetto al tema di conciliare insieme due soggetti che ovviamente hanno funzioni diverse ma per adesso sembra svolgano ruoli più o meno simili. Secondo punto riguardo al tema hate speech, antisemitismo, islamofobia, rispetto a questo ci sono dei lavori prodotti, ci sono delle linee, qual è dal vostro punto di vista anche la situazione italiana e l'ultimo punto riguardo all'agricoltura, noi adesso c'è stato un decreto importante rispetto alla lotta contro il caporalato, si parla molto anche di fare una sorta di etichette di qualità per le imprese virtuose a partire dal tema del rispetto ai diritti dei lavoratori se siete anche in contatto con il Ministro dell'Agricoltura o se per caso noi anche qui potremmo provare a costruire anche qui un lavoro comune. La collega Cimbro chiede di intervenire nuovamente. Mi scuso, mi sono dimenticata una cosa, proprio sul tema del cibo e dell'acqua come diritti umani fondamentali da garantire anche qui in Italia, noi abbiamo avviato come Partito Democratico in particolare è stata presentata una proposta di legge, un ITER per prevedere il diritto al cibo e all'acqua in Costituzione. Questo appunto ve lo diciamo come informazione, è un lavoro molto importante da farsi, adesso si stava pensando di intraprendere due strade, quella della modifica costituzionale che è un po' più difficile visto che stiamo già diciamo cambiando un po' di cose della Costituzione e quella invece della proposta di legge, però ecco su questo sicuramente chiediamo anche la vostra collaborazione e il vostro coinvolgimento perché è un tema centrale. Grazie. Adesso invito il Ministro De Martino a intervenire in sede di replica, le concediamo, ahimè è solo cinque minuti, però ha visto che ci sono molti temi interessanti e molto interessi da parte dei commissari e delle commissarie su questo argomento. Cominciamo dalla fine, quando l'impresa ai diritti umani, agricoltura, senz'altro il Ministero dell'Agricoltura è uno dei nostri interlocutori del gruppo di lavoro, per cui il problema del caporalato, misure per prevenire oppure per così stimolare comportamenti virtuosi sono tra le misure che noi prevediamo anche nel piano d'azione. Poi il problema dell'acqua evocato da ultimo novelo decimbro, nell'evento che stiamo organizzando a Roma per il 7 di aprile, no per il 5 di aprile scusate, lo facciamo insieme a Lembo, per cui l'evento stesso è un miracolo a dare un'idea di quello che è l'evoluzione del quadro internazionale, quella che è a livello costituzionale interno con la situazione in Italia e in una serie di altri paesi e poi a stimolare un dibaccio, tant'è che il titolo è verso un diritto, noi ci poniamo l'interrogativo, se si va verso un diritto così umano all'acqua, questa è la chiave che diamo e anche con una sezione che sarà dedicata a quello che l'Italia fa in pratica nel campo della cooperazione internazionale, cosa facciamo noi nelle nostre azioni di cooperazione per garantire l'accesso all'acqua, per cui esamineremo la problematica sotto il profilo di quello che è il diritto internazionale, diritto interno e attività concrete e poi vedremo l'esito di questo dibattito, vuole essere un momento di stimolo, avremo europarlamentari, avremo probabilmente anche un rapportore del Consiglio dei diritti umani sull'acqua e poi avremo anche una serie di esperti appunto di costituzionalisti e internazionalisti e questo com'è? Certamente si collega al problema del diritto al cibo, riforma costituzionale, noi come Cidu, noi entriamo in gioco quando si tratta di attuare in Italia impegni assunti a livello internazionale, per cui in questa fase noi stimoliamo un dibattito, però l'impegno a livello internazionale ancora non è una strada, è un percorso ancora in atto, ma appunto cerchiamo di dare un contributo in questo senso, non possiamo noi portare le soluzioni così, non sarebbe nel nostro ambito di competenze. Per quanto riguarda il problema della Commissione nazionale indipendente, senz'altro esiste una varietà, credo in tutto sono sette tra Camera e Senato, i vari disegni di legge, proposte che sono... Allora è iniziata al Senato la discussione, non è ancora stato discusso, però è prevista così. Noi come Cidu, non è mai successo prima, però se venissimo richiesti di preparare un parere su quello che dovrebbe essere il modello ideale di Commissione dell'Organismo nazionale indipendente, noi lo prepareremmo. Ci vorrebbe però una richiesta da parte vostra e noi poi, sulla base di tutto il grande materiale che abbiamo, possiamo preparare un parere con la soluzione quella ottimale, che poi a volte si dice appunto che il meglio è il nemico del bene, così eccetera, però è come parametro così a cui uno dovrebbe guardare, dove verrebbe anche affrontato ovviamente il problema di che cosa succede? Che cosa succede? Il problema che è stato prima evocato degli organismi già esistenti, in che modo si... perché lì effettivamente c'è... sì, c'è un... sì, l'arte del possibile, senz'altro. C'è un problema poi di sovrapposizione di competenze. Quando si parlava prima di discriminazione, beh lì abbiamo l'Oscad che si occupa di questo, noi anche come Cidu, come Italia abbiamo poi sostenuto la creazione di un gruppo di lavoro sui crimini di odio a livello europeo, dove siamo presenti e che sta lavorando su questo tema, appunto con l'Oscad partecipa. poi per cui lì il diritto alla verità, questo è un tema che dovrà essere considerato nel primo rapporto nazionale periodico che dobbiamo presentare relativo alla Convenzione sulle esparizioni forzate. L'abbiamo ratificata, adesso dobbiamo preparare un rapporto. E allora lì queste istanze anche, perché lì anche sentiremo la società civile, le organizzazioni innovatiche, oltre naturalmente gli utili input che possono prevenire anche dal Parlamento, e così... e quello è il momento e la sede in cui noi possiamo poi recepire queste istanze e sollevare il problema, perché c'è effettivamente poi un problema di equilibrio, diciamo così, tra il diritto a sapere e poi ci sono dei limiti che vengono così posti per altre esigenze. E' un tema anche sul quale si lavora a livello europeo, così, su queste questioni. Vediamo l'acqua, l'ho detto. Per quanto riguarda la questione delle donne, pace e sicurezza, che è vocale con la Presidente Locatelli, noi lì abbiamo... è poco conosciuta l'attività che svolgiamo, nel senso che i singoli soggetti sanno benissimo quello che fanno, però abbiamo notato addirittura una difficoltà, mettendoli tutti insieme, infatti oggi tra poco riprenderò con loro il discorso, ma chi fa progetti ha del materiale, chi ha del materiale dovrebbe condividerlo, di modo che si possa anche produrre qualcosa per farlo conoscere, perché è qualcosa di vivace, qualcosa di mediatico. che noi abbiamo in mente proprio di commissionare in qualche modo un breve, un brevissimo così cortometraggio che faccia vedere le nostre attività sul terreno, così qualcosa che si possa spendere sia qui per la pubblica opinione, ma anche che possa servire... siccome siamo appunto uno dei pochi paesi che ha fatto il piano, l'ha fatto già due volte, la nostra è un esempio per tanti, anche europei, che ancora non ce l'hanno, e avere del materiale così che sia efficace, sarebbe molto utile. Vediamo se ho dimenticato qualcosa... no, 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 mi sembra che... ecco, so se ci sono... sulla proposta di legge... sulla proposta di legge... sulla proposta di legge relativa all'anrottore... Bene, ringrazio il Ministro De Martino per questa interessante audizione, ringrazio le esperte che lo accompagnano nel lavoro, ringrazio i colleghi e le colleghe che sono intervenuti e adesso salutiamo il Ministro e le esperte e chiedo a voi di rimanere per un minuto solo, un minuto. Grazie, alla prossima forma di collaborazione. Buona giornata. Grazie.